Uniti contro l'ampliamento della discarica Manduria-Ambiente, l'appello di protesta lanciato dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, è rivolto alla politica, maggioranza e opposizione, ai sindacati, alle associazioni ambientaliste, che si è concretizzato con un corteo che ha sfilato dall'arco di Sant'Angelo a Piazza Garibaldi, contro l'ipotesi di sopralzo della discarica e dell'ammasso di ulteriori 150.000 metri cubi di spazzatura. No al sopralzo e lo diciamo anche dal punto di vista tecnico. Uno, che l'ufficio tecnico nostro ha dato parere negativo perché mancano alcuni documenti. Due, quello che dal punto di vista proprio politico non è possibile che ancora il territorio sia di riferimento, di discarica. Il nostro territorio ha già dato. La società emiliana Manduria-Ambiente, per conto dell'Ager Puglia, gestisce la discarica dal 2004 e chiede per la seconda volta un ingrandimento per un totale di 1168 metri cubi di spazzatura. Da vent'anni Manduria ha in camera tonnellate di rifiuti con conseguenti danni ambientali e rischi alla salute. È una ricaduta anche in termini di turismo. Se dovessero ampliarla, naturalmente noi sempre paghiamo le conseguenze, non è giusto. Ci riempiranno sempre di cose negative, di spazzature e basta. Puzza, chiamiamola nel vero senso della parola, che ci sta avvolgendo continuamente. Manduria è uno dei primi con la tiroide, no? Quando vai a Pisa dico dove sei di Manduria? Già lo sanno. Ora l'esito definitivo che spetta alla Regione Puglia si saprà tra poco meno di due mesi alla chiusura del Power e il provvedimento autorizzatorio unico regionale.